sapevamo benissimo che l'avversario numero uno era Marian Voss e sapevamo che l'unica di noi che poteva reggiargli la ruota su un attacco secco sul cowberg era Elisa e ho tolto questa maglia per passarla sicuramente sulle spalle dell'atleta del momento e dell'atleta da anni del momento e gli altri anni i percorsi hanno favorito le mie caratteristiche e quest'anno sono strappo così secco e è abbastanza lungo per le mie caratteristiche l'ho sofferto un pochettino poi comunque forse la Vossa ha diciamo capito come dopo anni che l'ha perso come poter diciamo trovarci in difficoltà un plauso comunque a Elisa perché si è presentata in forma e dall'inizio dell'anno che sta andando forte soprattutto nel finale di stagione ha fatto vedere qual è il suo valore quindi noi ragazze contavamo su di lei per avere un risultato certo nel finale. Avere delle ragazze esperte come Cantele, Guderzio e Bronzini è sempre una sicurezza loro sanno come correre sanno che cosa fare e sanno qual è il momento migliore per un attacco o per seguire gli attacchi. Sull'ultimo Kauberg Marianne ha toccato veramente forte e io ho cercato di rispondere benché le mie gambe non volessero girare come io mi aspettassi. Sono riuscita a difendermi dal rientro di Amber Neven e sono arrivata terza.